Wuh! 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 Ecco qui! Informazioni Repubblica Ceca! Sì, sì. Ecco. Ehm... Stefano? Sì? Prego! Sei pronto? Sì! Il nostro quicettone, dai! Sì, sì, sì. Ok, facciamo un applauso di incoraggiamento. Ok! Signora Stefano, la Repubblica Ceca è famosa per... Eh, per la sua capitale, Praga! Bene, esatto! E la Repubblica Ceca è anche famosa per... Per i Castelli della Bohemia! Bravo, sì, è giusto, è giusto, bravo! E per... E per il Parco Naturale della Sumava, dei Monti della Sumava, protetto dell'UNESCO! Sì! Bene!